Dries, potrebbe essere un'aspettante terza posizione, perché fino alla ultima partita non ero sul podio, sei felice? Sì, sono felice. Non mi sento davvero bene questa giornata, quindi sono molto felice con i risultati. Ho passato due all'interno nella ultima partita e sono davvero orgogliosa del risultato con Parlen. La ultima settimana ero riuscita, questa settimana ero sul podio, quindi sono davvero felice. Perché non ti senti così bene questo settimana? Non so, sono riuscita questa mattina e ho solo un colore, non so. Grazie! Grazie!